Musica Ancora buongiorno, ancora ben trovati con la prima edizione mattutina del nostro telegiornale in formato interregionale, in questo caso in formato europeo visto che vi daremo tutti i dati relativi alle elezioni europee prima di partire però con i numeri e con le considerazioni c'è una notizia dell'ultima ora di cronaca con la Guardia di Finanza di Bari che sta eseguendo proprio in questi minuti 31 misure cautelari, personali anche il sequestro di beni per un valore di circa 2 milioni di euro in materia di traffico di sostanze stupefacenti non abbiamo ancora ulteriori dettagli, dettagli che saranno poi spiegati sviscerati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 presso il Palazzo di Giustizia presieduta dal Procuratore della Repubblica di Bari Roberto Rossi sarà in quel caso illustrata anche la rilevante attività investigativa delegata ai finanziari del Comando Provinciale di Bari e del Servizio Centrale investigazione criminalità organizzata a contrasto di un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti lo ripetiamo in questi minuti, in questi istanti i finanziari stanno eseguendo 31 misure di ordinanza di misure cautelari su ordinanza ma anche il sequestro di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro questo per quanto riguarda la cronaca per quanto riguarda invece le elezioni europee prima di andare a vedere quelli che sono i dati aggiornati prima di vedere anche cosa dicono cosa commentano i giornali facciamo un recap con il nostro primo servizio firmato da Antonio Bucci Fratelli d'Italia si tiene lo scettro di primo partito italiano e fissa l'asticella in alto a tarda notte intorno ai 30 punti percentuali eppure gli azzurri festeggiano il sorpasso sugli alleati della Lega con tutto quello che vorrà dire negli equilibri dell'esecutivo 12 mesi fa Forza Italia doveva sparire per molti invece ha dimostrato di poggiarsi su solide basi su radici che il presidente Berlusconi aveva evidentemente piantato il PD accorce la distanza punta al podio delle delegazioni tra i socialisti al sud a superare l'asticella sono anche gli Stati Uniti d'Europa e l'alleanza a sinistra con i 5 stelle intorno ai 18 punti percentuali ma soprattutto il jolly si chiama Antonio De Caro Quei dati dimostrano anche una fiducia e un affetto enorme che mi arriva da più parti spero di non tradire questo patrimonio di consenso che mi arriva da più parti del sud spero di non tradire la mia gente di poterla rappresentare l'ex sindaco di Bari trae nei suoi in cassa più di 100.000 preferenze e si porta a casa non solo un seggio a Bruxelles ma anche l'effetto cascata sulle comunali del capoluogo salvo colpi di scena il ballottaggio tra due settimane sarà classico da una parte il centro-sinistra di Vito Leccese dall'altra il centro-destra di Fabio Romito La partita è completamente aperta con Fabio Romito che devo dire credo che rappresenterà una sorpresa Ma io credo che il sindaco di questa città come ho detto in questi giorni alla fine sarà Vito Leccese Andiamo sul nostro sito antennasud.com con appunto i dati riferiti alle amministrative chiaramente si tratta in questo caso di Exit Poll a Bari verso il ballottaggio Leccese Romito il candidato del centro-sinistra quindi viene dato in vantaggio con una forbice tra il 42 e il 46% tanto basta appunto per arrivare al ballottaggio con Fabio Romito candidato del centro-destra con una forbice tra il 31 e il 35% staccato invece Michele Laforgia per i 5 Stelle la sinistra tra il 20 e il 24 secondo gli Exit Poll insomma nessun dubbio si andrà al ballottaggio con la sfida Leccese Romito chiaramente ci si aspetta come dire una sorta di ricongiungimento con l'area che fa riferimento a Michele Laforgia ma chiaramente stiamo parlando in questo caso di Exit Poll non stiamo parlando di voti reali lo spoglio per le amministrative inizierà a partire dalle 14 così come a partire dalle 14 Antena Sud sarà in diretta con il nostro speciale con la nostra maratona dedicata proprio alle elezioni sia europee che amministrative con tanti collegamenti da Bari e Lecce e altri comuni chiamati al voto stavamo parlando prima di dati reali di numeri ufficiali quelli che ci fornisce il Ministero attraverso la piattaforma Eligendo andiamo ad aggiornare nuovamente la pagina per vedere quella che è la situazione nella circoscrizione dell'Italia meridionale dove il Partito Democratico sarebbe il primo partito per quanto riguarda appunto il Sud Italia con il 24.49% seguito poi da Fratelli d'Italia con il 23.61% andiamo a vedere le preferenze della lista del Partito Democratico dove si registra l'exploit di Antonio De Caro leader di preferenze sono quasi mezzo milione di preferenze 483.368 preferenze sarebbe appunto il più votato nella circoscrizione del Sud Italia seguito poi da Lucia annunziata con 233.066 preferenze dobbiamo ripeterlo dobbiamo ribadirlo il dato non è ancora definitivo ma siamo lì perché questi sono i dati che si riferiscono a 14.000 scusate 337 sezioni scrutinate su 14.992 siamo quindi in dirittura d'arrivo per quanto riguarda anche le preferenze per le elezioni europee torniamo al quadro principale per quanto riguarda la circoscrizione del Sud Italia con il secondo partito Fratelli d'Italia con il 23.61% andiamo a vedere le preferenze di Fratelli d'Italia guardate Meloni Giorgia detta Giorgia ovvero la Premier Giorgia Meloni 528.732 preferenze quindi un risultato sicuramente abbastanza eclatante a cui non può non si avvicina nessuno degli altri candidati Alberico Gambino al secondo posto con 87.777 preferenze e poi appunto Francesco Ventola 86.195 preferenze e poi via via tutti gli altri il risultato di Vittorio Sgarbi non è assolutamente eclatante neppure particolarmente eccitante potremmo dire così 22.019 preferenze al momento per Vittorio Sgarbi dopo Fratelli d'Italia Movimento 5 Stelle che regge per così dire solo al Sud Italia dove comunque c'è stato un calo importante per i 5 stelle andiamo a vedere quella che è la situazione per quanto riguarda le preferenze dei candidati Pasquale Tridico 109.127 preferenze leader quindi di preferenze per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle seguito dalla Pugliese dalla Ostunese Valentina Palmisano con 41.729 preferenze scorriamo ancora Forza Italia che si attesta intorno al 10.70% nella circoscrizione Sud Italia andiamo a vedere sotto l'aspetto delle preferenze singole quella che è la situazione con Antonio Tagliani che raggiunge un risultato sicuramente 137.599 preferenze seguito da Fulvio Martucello fermo a 91.941 preferenze dobbiamo ricordarlo manca davvero poco per i risultati ufficiali perché mancano ormai poche sezioni in tutta Italia andiamo a vedere gli altri risultati con la fasanese Laura De Mola segretaria provinciale di Forza Italia a Brindisi che si ferma al 27.676 preferenze e poi appunto via via tutti gli altri andiamo a vedere quello che è il quadro invece per i candidati della Lega Salvini Premier e qui si registra il risultato importante del generale Roberto Vannacci leader di preferenze con 69.705 preferenze personali e lui il più votato per la Lega nel sud Italia seguito però da vicino piuttosto da vicino da Aldo Patricello che fa registrare un dato sicuramente importante 66.699 preferenze seguito poi dal leccese Roberto Marti fermo a 57.778 preferenze certamente certamente appunto il risultato di vannaccia ha permesso alla Lega di mantenere il generale botta anche al sud Italia dove ha fatto registrare un 6.84% andiamo a vedere Leanza Verdi e Sinistra con Mimo Lucano leader di preferenze con 73.006 voti e poi con Francesco Emilio Borrelli che segue a 47.383 preferenze e poi appunto via via tutti gli altri il risultato al momento è fermo su un 5.68% per la lista Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione del sud Italia non benissimo Stati Uniti d'Europa che comunque regge al sud con un 4.88% c'erano nomi importanti nella lista di Stati Uniti d'Europa uno su tutti Matteo Renzi che fa registrare 57.748 preferenze personali seguito da Nicola Caputo e poi Enzo Maraglio e poi Sandra Mastella andiamo a vedere le altre preferenze c'era anche Teresa Bellanova che si ferma con 16.359 preferenze e poi Massimiliano Stellato con 7.368 preferenze lo dicevamo Stati Uniti d'Europa male comunque in queste europee rispetto a quelle che erano le previsioni le aspettative però sicuramente a retto nella circoscrizione sud lo ha fatto meglio sicuramente di azione il partito di Carlo Calenda che si è fermato al 3.30% andiamo a vedere le preferenze primo Marcello Pittella con 31.781 preferenze poi seguito a distanza importante da tutti gli altri sicuramente un risultato però non estremamente lusinghiero per azione e poi mano a mano tutti gli altri partiti facciamo un aggiornamento per vedere se cambia e come cambia la situazione lo vediamo ci siamo quasi perché il dato continua ad essere aggiornato ma è un dato che vede sempre per quanto riguarda il sud Italia per quanto riguarda le elezioni europee lo andiamo a ripetere lo andiamo a ripetere vede sempre al primo posto come primo partito il partito democratico con il 24.45% seguito da Fratelli d'Italia primo partito d'Italia ma secondo per la circostruzione sud con il 23.62% e poi il movimento 5 stelle 16.75% e poi tutti gli altri via via con Forza Italia che supera agilmente la Lega Salvini sull'Italia 10.71% per il partito guidato da Tajani 6.84% invece per il partito del vicepremier Salvini guidato da un punto di vista elettorale dal generale Roberto Vannacci sempre per quanto riguarda il sud Italia alleanza verde e sinistra 5.68% e poi Stati Uniti d'Europa 4.89% e azione siamo europei con il 3.30% insomma la situazione sembra essere ormai cristallizzata c'è da dire che poi un altro dato sicuramente importante è poco lusinghiero è quello relativo alla affluenza che davvero è piuttosto bassa soprattutto nell'Italia meridionale soprattutto nelle isole con un'affluenza alle urne che si attesta addirittura sotto il 50% insomma la sensazione è che evidentemente qualcuno nella giornata di ieri abbia preferito il mare piuttosto che i piuttosto che i seggi elettorali allora vediamo questo servizio di Domenico Brandolissimo il primo caldo del 2024 arriva proprio nel weekend delle elezioni Bari e tra le città coinvolte meglio il mare o meglio andare alle urne ecco cosa ne pensano i baresi io per la me sono già andato quindi prima votato e poi andato al mare è normale sono venuto qui di trovare qualche gallina buona è meglio sono andato a votare però se non andavamo era meglio per tutte le cose che ci sono quindi lei è una cittadina che vota ma si tura il naso bravissimo ha fatto sia una cosa che l'altra bravissimo è utile e divertente gli altri lo faranno qualcuno rimanga a casa qualcuno rimarrà a casa sì voto e poi mare tutti e due noi speriamo che vada tutto bene questo ci interessa nient'altro chi vincerà non lo so non lo so veramente sono negato preferisco il mare scusami perdonami ma preferisco il mare mare o voto già fatto il voto ieri sera e oggi a mare è stato un voto convinto però diciamo di sì speriamo nelle innovazioni le elezioni ho fatto questa no anche noi ieri sera alle 11 a votare no per il momento non ce l'ha te spero te e lei ha fatto entrambe le cose no 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 meglio andare a mare non so chi votare non conosco nessuno insomma a Bari c'è in effetti chi non ha voluto rinunciare a nulla prima il voto poi la spiaggia o viceversa in effetti chiaramente nelle città nei comuni dove si votava anche per le amministrative l'affluenza è stata sicuramente più alta rispetto a quella piuttosto deludente registrata invece sul fronte europeo a tal proposito vi ricordo che nella giornata di oggi daremo ampio spazio alle elezioni non solo alle europee ma anche soprattutto alle elezioni amministrative e lo faremo con una vera e propria maratona che partirà alle 14 con il direttore Gianni Sebastio e tutta la squadra di giornalisti e tecnici impegnati sul territorio tanti collegamenti in primis da Bari da Lecce e da Potenza dove si vota appunto si è votato per il rinnovo del Consiglio Comunale per l'elezione del nuovo sindaco ma lo speciale elezioni sarà anche al centro di mattina a sud della puntata di oggi con Gianmarco Sansolino e Anna Saponaro in studio per il commento per l'appunto di queste elezioni in primis a questo punto delle elezioni europee allora facciamo un breve recap sempre sfruttando comunque la piattaforma eligendo per andare a vedere quello che è il risultato quasi definitivo a questo punto perché mancano davvero poche sezioni registrato nella circoscrizione sud nella circoscrizione meridionale dove il partito democratico si afferma come primo partito con il 24.44% dei voti seguito da Fratelli d'Italia 23.61% Movimento 5 Stelle con il 16.75% e poi Forza Italia 10.71% Lega Salvini con il 6.84% poi Alleanza Verdi e Sinistra 5.68% non benissimo Stati Uniti ed Europa è azione di Carlo Calenda andiamo avanti con le notizie un uomo di 49 anni di Gravina in Puglia in provincia di Bari Vincenzo Olivieri morto nelle scorse ore schiacciato da un cancello l'incidente è avvenuto intorno alle 10.30% quando l'uomo stava per accingersi a svolgere un'attività di pulizia nel giardino della parrocchia dedicata al Santissimo Crocifisso di cui era volontario ancora la cronaca a Lecce un candidato consigliere pensate è stato allontanato dalla polizia ieri mattina dal seggio allestito nel liceo scientifico Banzi perché aveva sulla giacca un distintivo del movimento di appartenenza e aveva con sé questa l'accusa dei volantini elettorali chiaramente non è consentito chiaramente lo sappiamo non si può fare nel giorno del voto all'invito di un'ispettrice di polizia ad allontanarsi non avendo nulla a che fare con quel seggio l'uomo avrebbe reagito in maniera scomposta oltraggiando il personale di polizia presente per questo è stato denunciato a piede libero ancora cronaca e di quattro feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta nelle scorse ore all'interno di un appartamento in via Maturi a Taranto un'intera famiglia è finita in ospedale il servizio del direttore Gianni Sebastio momenti di paura nella serata di sabato a Taranto e di quattro feriti il bilancio dell'esplosione avvenuta in serata all'interno di un appartamento in via Maturi un'intera famiglia è finita in ospedale marito e moglie con due figli che hanno riportato fortunatamente lievi ustioni su varie parti del corpo le loro condizioni non sarebbero gravi sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza lo stabile ma anche i carabinieri del comando provinciale del capologo ionico la violenta esplosione ha anche danneggiato gli infissi dell'appartamento la deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas partita da una bombola gli ambienti erano saturi ed è bastata la scintilla di un accendino utilizzato per accendere un fornello per provocare l'esplosione pare che la famiglia di origini asiatiche si fosse trasferita nell'appartamento di via Maturi soltanto da un giorno restiamo a Taranto ma cambiamo decisamente l'argomento parliamo di turismo parliamo di crociere parliamo di navi perché a Taranto è arrivata la costa fascinosa una Taranto assolata tirata a lucido accolto nel modo migliore i 3200 crocerissi della nave costa fascinosa attraccata nella città dei due mari nella mattina della domenica per il primo arrivo stagionale lo scalo avverrà nella giornata festiva per tutta l'estate fino al 22 settembre con una sosta di 10 ore nell'ambito di un itinerario diretto a Santorini Miconos La Valletta e Catania tra i programmi proposti da costa e la tour a piedi della città vecchia con una visita al castello aragonese al duomo di San Cataldo abbiamo raccolto i pareri dei visitatori che hanno sottolineato la bellezza dell'approdo e la pulizia della città Da dove è venita? Catania Catania prima volta a Taranto prima volta ho fatto meritare Io da Varese però non vengo da Palermo capisci? Ah, lei da Varese prima volta a Taranto Taranto è la prima volta sì Com'è che sembra come città? Valida è anche pulita per me Molti si sono rivolti all'infopoint di Confcommercio come rimarca Mario Raffo presidente di Federmoda Taranto Il flusso è importante abbiamo avuto turisti di ogni parte d'Europa al momento francesi tedeschi, spagnoli tantissimi italiani tanti siciliani una curiosità simpatica ci sono stati alcuni turisti che ci hanno anche chiesto di visitare alcuni dei mercati addirittura il mercato della Salinella che insomma sappiamo benissimo che proprio nelle strette vicinanze non è quindi insomma sollecitiamo l'amministrazione pubblica a considerare anche questa opportunità come succede in tante altre città del mondo dove il mercato naturalmente è un punto di forza ci fermiamo per qualche istante ci sono anche le previsioni del tempo poi ritorniamo con altre news altri giornali e altri dati quelli ufficiali relativi alle elezioni europee a tra poco ben trovati ancora in studio sempre in rigorosa diretta con l'informazione interregionale di Antenna Sud vi stiamo fornendo tutti i dati quelli reali quelli veri quelli ufficiali relativi alle elezioni europee oggi il day after è il giorno dei conti sia per le europee ma anche per le amministrative perché nel primo pomeriggio a partire dalle 14 inizierà lo spoglio per le schede delle elezioni amministrative lo sappiamo al voto importanti comuni su tutti Bari e Lecce ci collegheremo in diretta a partire dalle 14 con la nostra maratona elettorale guidata dal direttore Gianni Sebastio e vi forniremo davvero tutti i dati tutte le curiosità anche di queste elezioni europee e amministrative sulle europee abbiamo già i dati quelli veri quelli reali si tratta di schede già scrutinate allora torniamo sulla piattaforma Eligendo vi stiamo fornendo i dati relativi alla circoscrizione meridionale che riguarda anche chiaramente la Puglia e la Basilicata andiamo a vedere quelli che sono i dati quando mancano davvero poche sezioni all'appello e che questi dati vedono appunto il Partito Democratico come primo partito per quanto riguarda la circoscrizione meridionale 24.42% seguita poi da Fratelli d'Italia dal Movimento 5 Stelle da Forza Italia dalla Lega Salvini alleanza Verdi e Sinistra andiamo ad aprire la casella relativa al Partito Democratico con le preferenze personali primo con un distacco importante è Antonio De Caro l'ormai ex sindaco di Bari neoparlamentare con 485.815 preferenze seguito da Lucia Annunziata 234.819 preferenze per quanto riguarda invece Fratelli d'Italia lo ripetiamo stiamo analizzando quelli che sono i risultati della circoscrizione meridionale nessun dubbio che la leader di preferenze sia Giorgia Meloni ovvero la Premier con 532.996 preferenze un voto un risultato sicuramente importante che racchiude la grande popolarità di cui al momento può godere il primo ministro italiano Movimento 5 Stelle terza forza per quanto riguarda il Meridione con il 16.76% e con Pasquale Tridi che porta a casa al momento 110.505 preferenze risultando di gran lunga il più votato della lista al secondo posto c'è la ostunese Valentina Palmisano con 42.079 preferenze andiamo a vedere la situazione in Forza Italia che fa registrare un risultato comunque sicuramente buono sicuramente importante al momento è al 10.72% per quanto riguarda il Meridione e con Antonio Tagliani il vicepremiere e ministro leader di preferenze con 139.429 preferenze seguito da Fulvio Martuscello e quindi questa la situazione in Forza Italia regge anche al sud la Lega Salvini lo fa principalmente grazie al risultato ottenuto anche nel sud Italia dal generale Roberto Vannacci con 70.232 preferenze che al momento difficilmente però cambierà la situazione considerando che siamo davvero quasi in chiusura ma Vannacci appunto supera Aldo Patriciello 67.283 preferenze e poi al terzo posto Roberto Marti il parlamentare leccese il senatore leccese con 58.106 preferenze questa la situazione per quanto riguarda la circoscrizione sud e quindi anche Puglia e Basilicata noi torniamo su Repubblica vediamo se riusciamo a vedere a comprendere quelle che sono poi state le reazioni già arrivate durante la notte quando il risultato è stato più o meno chiaro perché se prima vi abbiamo mostrato quella che è la situazione per quanto riguarda il sud Italia ci sono poi i risultati nazionali e in questa scala in questa larga scala Fratelli d'Italia la fa da padrone perché in Italia è il primo partito con il 28.9% al secondo posto in questo caso il partito democratico 24.5% e poi il crollo del movimento 5 stelle con il 10.5% lega 8.5 forse Italia 9.2 sarà un testa a testa su fronte nazionale per quanto riguarda poi questa speciale classifica cosa scrive il quotidiano della Repubblica scrive che Fratelli d'Italia resta primo scrive che il PD cresce ma appunto che c'è un crollo del movimento 5 stelle mentre forse Italia supera la Lega per la prima volta nella storia alle urne meno della metà degli italiani il partito di Meloni migliora il risultato delle politiche nel centro-destra il carroccio diventa terzo partito successo per l'alleanza verde-sinistra Stati Uniti d'Europa balla sul 4% azione invece rischia e rischia appunto di restare fuori dall'Europa e qui questa foto di Giorgia Meloni con questa scritta dietro alle spalle grazie perché in effetti è questa poi la situazione il governo va avanti senza rimpasti ora l'accelerazione sul premierato alla fine lei sta e così il suo governo Giorgia Meloni detta Giorgia cercava il plebiscito e ottiene un risultato robusto che man mano che si dipanava la campagna elettorale era diventato il suo obiettivo ovvero andiamo ad ingrandire per favorire la lettura anche la vostra portare il dato complessivo del suo partito e della coalizione sopra l'asticella delle politiche per dimostrare che il centro-destra non ha subito il logorio di un anno e mezzo di amministrazione un esito considerato un via libera per l'esecutivo che osserve il capogruppo di Fratelli d'Italia Tommaso Foti esce rafforzato da queste elezioni anche perché in un quadro di avanzamento delle destre in tutta Europa con Macron e Scholz in evidente difficoltà il governo italiano è quello più in salute per dirla con le parole di un altro fedelissimo della Premier come l'eurodeputato uscente Nicola Procaccini adesso spiegano fonti vicini alla Premier è difficile immaginare scossoni più egevole al contrario smaltire le scorie accumulate soprattutto negli ultimi giorni prima del voto quando lo scontro fra i leader della maggioranza era diventato particolarmente acceso con un duello aperto fra i due vicepremier Tagliani e Salvini il risponso delle urne consente a Meloni di portare avanti il suo programma senza ritocchi sostanziali alla squadra di governo sempre negati pubblicamente ma immaginati fino a un paio di mesi fa quando in un colloquio con il Quirinale fu esplorata l'ipotesi di un passaggio parlamentare per cambiare alcuni ministri di certo la Premier guarda da lontano dall'alto il testa a testa tra Forza Italia e Lega con la prima in vantaggio questo scenario permetterà alla Premier di portare avanti alcuni temi chiave in primis la riforma del primerato sul quale adesso si tenterà un'accelerazione verso il primo si è insenato d'altro canto il dato positivo di Forza Italia evita uno spostamento a destra dell'asse dell'esecutivo e dunque mette un freno a Salvini un anno fa moriva Berlusconi e a più sembrava scontato che Forza Italia fosse assorbita da Fratelli d'Italia oggi i tagliani al netto del dato sulle preferenze può dire di aver vinto la scommessa della sopravvivenza tenendo a bada anche l'effetto vannacci che ha condizionato la campagna elettorale e può vedere da vicino il sorpasso ai danni del carroccio i rapporti di forza fra gli alleati si definiscono insieme alle percentuali definitive che maturano nella notte l'esito di questa partita interna e la vera incognita per il futuro della squadra di Meloni guardando i riflessi del voto sul panorama italiano scrive Emanuele Lauria i fonti forziste osservano che se i dati provvisori saranno confermati il quadro del governo resta stabile non ci saranno conseguenze di alcun tipo ma Tagliani in condizione di alzare la posta questa la situazione queste le analisi così come questa è una festa per Giorgio Meloni e per fratelli d'Italia ci hanno visto arrivare non ci hanno fermato l'Italia torna bipolare resta chiusa fino a tardanotte in una stanza insieme alla sorella Arianna e la figlia Ginevra posta una foto sui social e vestita di rosso e fa il segno della vittoria ci confermiamo il primo partito nel frattempo al parco dei principi il cognato Francesco Lollobrigida consuma stilografiche con Giovanni Donzelli attorno a un tavolo gigante raccolgono i dati reali che poi trasmettono al telefono a Giorgio Meloni ogni tanto addentrano una pizza al salame un mini panino vegetariano tre bottiglie di bollicine e un applauso servono a celebrare la promessa di un buon risultato le proiezioni portano Fratelli d'Italia sempre più in alto vicini al 30% e la soddisfazione scrive Tommaso Ciriaco diventa gioia la Premier supera il dato delle politiche i suoi stimano 1.9 milioni di preferenze per pensare di più a Bruxelles la leader di Fratelli d'Italia manterrà la presidenza di ECR a Mondovì zuffra tra militanti venoniani indagare ad Igos ma questa appunto è tutt'altra storia allora noi ritorniamo in studio lo facciamo per andare avanti con le notizie ci stacchiamo dalla questione elettorale andiamo a Brindisi ieri mattina è partita la regata la Brindisi Corfu in un contesto particolare lo sappiamo il contesto è quello del G7 Fabrizio Caglianello c'è una multa che sventola su un'auto parcheggiata in zona rossa sullo sfondo il castello le barche la partenza della regata velica internazionale Brindisi Corfu la zona è blindatissima non poteva essere altrimenti l'accesso alla diga di Brindisi è off limits chi vuole assistere al solito spettacolo deve percorrere diversi chilometri a piedi sotto il sole cosciente una regata con sfondo sul G7 dunque chi l'avrebbe mai detto lo spettacolo è quello di sempre anzi è impreziosito ulteriormente dalla presenza di alcune navi da crociera nel porto interno e nel porto esterno ovviamente c'è qualche restrizione in più rispetto alle precedenti edizioni ma era inevitabile in tempo di G7 qualcuno si sente male per il caldo e deve ricorrere alle cure dei sanitari del 118 fortunatamente solo un calo di pressione non mancano i curiosi nonostante tutto la zona è presidiata da diverse auto di polizia carabinieri e capitaneria di porto si alza il vento e per tutti è un sospiro di sollievo perché quest'anno eventuali rinvii sarebbero stati più complicati in virtù dell'imminente chiusura degli specchi d'acqua che circondano Brindisi con relativa interdizione della navigazione alla fine lo spettacolo è stato garantito comunque offrendo una cartolina che rappresenta un degno sipaio da aprire sull'evento più importante che Brindisi abbia mai ospitato e restiamo sul porto di Brindisi nel scorse ore sono arrivate le dimissioni del presidente dell'autority Ugo Patroni Griffi motivi personali motivi di salute e lo ha ascoltato per noi Davide Cucinelli prima uscita pubblica a Brindisi del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi dopo l'ufficializzazione delle sue dimissioni causate da motivi di salute l'occasione è la cerimonia di saluto alle imbarcazioni della regata internazionale Brindisi Corfu ed è anche l'occasione per lo stesso presidente Padroni Griffi per fare il punto sul porto Brindisino che lascia dopo sette anni ho 22 giorni di presidenza e saranno come tutti i giorni che ho fatto finora peraltro ho il tavolo e nella settimana prossima che dovrei cercare di chiudere questo è il porto che io immaginavo cioè oggi uno vede e dice ma che ti immaginavi tu sette anni fa per Brindisi io immaginavo esattamente il porto che oggi vedete l'evento straordinario che è il G7 è arrivata la nave da crociera che porta gli uomini della sicurezza ma è sempre una nave da crociera è sempre uno spettacolo sono veramente molto contento di partecipare ancora una volta a una festa di popolo che è lo spirito di quello che dovrebbe essere questo porto molto di porto molta cantieristica commercio turismo crociere rinnovabili transizione tutto senza rinunciare a niente perché non c'è bisogno di rinunciare a niente abbiamo dei progetti che servono a sostenere Brindisi capitale della cultura abbiamo bonificato questo pochi lo sanno punta delle terrare finalmente è fruibile può diventare un grande parco archeologico ci sono tanti motivi per essere soddisfatto e per essere qui e oggi con l'orgoglio di aver fatto il mio restiamo sempre nel Brindisino restiamo nel contesto del G7 il vertice dei leader dei grandi della terra in programma questa settimana dal 13 al 15 giugno proprio in provincia di Brindisi tra il capologo Messapico e Fasano Borgo e Ignazia ma anche Mesagne sarà protagonista con una mostra legata proprio al G7 con decine di opere dei maggiori artisti italiani d'ogni tempo in programma al castello ci spiega tutto Gianmarco Di Napoli nel castello di Mesagne le opere arrivano una alla volta protette in preziosi scrigni che non solo le preservano da urti e vibrazioni ma che ne mantengono la temperatura e l'umidità costanti la mostra G7 Sette secoli d'arte italiana sarà inaugurata giovedì 13 giugno poche ore prima che in serata i grandi della terra accolti dal presidente della Repubblica Mattarella saranno ospiti in un altro castello a 15 chilometri di distanza quello aragonese di Brindisi per la cena di gala è già arrivata una delle opere più attese della mostra l'ingresso del Canal Grande con la veduta della Chiesa della Salute un olio su tela realizzato dal canaletto nel XVIII secolo un altro capolavoro assoluto è il miracolo degli impiccati un olio su tavola di Raffaello custodito nel Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa dal Museo di Palazzo Costa di Piacenza giungono la Madonna dei Fusi della Bottega di Leonardo e il capolavoro di Salvatore Rosa Mario davanti alle rovine di Cartagine dalla Galleria Nazionale di Arte Moderna il nero, bianco e nero del 1955 esposto alla Biennale di Venezia del maestro dell'informale Alberto Burri mentre dal Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo la tavola dipinta a tempera di Lorenzo Lotto raffigurante San Girolamo penitente la mostra sarà presentata martedì mattina in una conferenza stampa a Bari presso la chiesa di Santa Teresa dei Maschi andiamo in Valle d'Itria a Martina Franca tre giorni di iniziative ed eventi per celebrare le 50 edizioni del Festival della Valle d'Itria in questo 2024 avevamo promesso di creare degli eventi che potessero coinvolgere tutta la Valle d'Itria tutta Martina Franca nel clima di festa che è legato alle celebrazioni per le 50esime edizioni del Festival della Valle d'Itria la città tira fuori dal guardaroba l'abito della festa a Martina Franca tre giorni di iniziative ed eventi per celebrare le 50 edizioni del Festival della Valle d'Itria non è ancora tempo di festival ma ci sono spettacoli concerti flash mob arte letture per bambini come tappa di avvicinamento alla prima titolo del cartellone di questa tre giorni la Puglia con il Festival 50 anni di storia completamente a ingresso libero e gratuito tra le vie del Centro Storico e in alcuni dei più bei luoghi di Martina Franca il Palazzo Ducale Orti del Duca Fiostro di San Domenico l'Auditorium della Fondazione Paolo Grassi Piazza 20 Settembre Piazza Roma e Villa Garibaldi sono particolarmente orgoglioso di questo cinquantesimo anniversario di uno dei festival più iconici e più rappresentativi del sistema culturale pugliese e tra i festival di musica colta più importanti in Europa questa tre giorni conferma ulteriormente il valore che Fondazione Paolo Grassi e Festival della Valle d'Itria conservano e restituiscono al territorio perché l'incontro tra il Festival della Valle d'Itria e le altre fondazioni partecipate da Regione Puglia dagli enti locali che presidano i vari ambiti di questo sistema culturale da cui emerge la varietà di questa offerta la capacità di contaminazione tra linguaggi e forme di espressione diverse dalla musica all'arte alla lettura alla letteratura Fatturato in crescita per Conad Adriatico che ha tenuto a pugno chiuso la propria assemblea di approvazione del bilancio 2023 Cooperazione Sostenibilità e Persone al centro delle strategie di Conad Adriatico che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 2.134 milioni di euro in crescita del 6,65% rispetto al 2022 cifre illustrate nello splendido scenario di pugno chiuso dall'amministratore delegato di Conad Adriatico Antonio Di Ferdinando nel corso della gremitissima assemblea di bilancio 2023 la quattro giorni si è conclusa con il concerto sorpresa di Giorgia dal punto di vista numerico è un bel bilancio in una situazione di estrema difficoltà non dimentichiamoci lo scorso anno che avevamo venivamo da un'inflazione pesantissima che non registravamo più da circa 20 anni e con una diminuzione del potere di spesa poi senza considerare i problemi internazionali delle varie guerre che ci sono sul territorio quindi un anno estremamente difficile con un'inflazione che è ancora in discesa ma ancora molto forte e con una diminuzione dei consumi da parte della clientela già lo scorso anno abbiamo occupato in Puglia oltre 200 nuove unità con l'apertura di alcune ristrutturazioni di alcuni negozi per noi la Puglia è una regione di sviluppo importantissima perché su 5 regioni in cui siamo presenti Marche Abruzzo Molise Puglia Basilicata siamo leader nelle Marche siamo leader in Abruzzo siamo leader in Molise non siamo assolutamente leader in Puglia quindi per noi è un obiettivo chiaramente raggiungere la leadership molto molto difficile perché abbiamo competitor bravi e importanti però avvicinarci a loro è un obiettivo Torniamo in Valle d'Itria meglio nei cieli della Valle d'Itria con tanti aquiloni in volo per un festival internazionale che promuove i valori della sostenibilità e dell'agenda 2030 La Valle d'Itria accoglie per la prima volta l'International Kite Festival evento speciale dedicato agli aquiloni nella successiva cornice di masseria Madonna dell'Arco un festival speciale durante il quale designer e piloti di aquiloni di tutto il mondo si sono riuniti per esibirsi con i propri aquiloni artistici per offrire uno spettacolo unico per grandi e piccini da sempre considerato simbolo di pace dialogo e solidarietà tra i popoli l'aquilone diventa così lo strumento per promuovere gli obiettivi dell'iniziativa per sostenere l'arte del vento il turismo ecologico e la creatività sostenibile In questa grande masseria nel pieno centro della Valle d'Itria non c'è solo l'evento del festival degli aquiloni ma ci sono una serie di iniziative che partono la mattina alle 10 e si concludono alle 22 e alle 23 di sera e in questo momento è in corso la sagra io sono in fila con il mio ticket per degustare i prodotti tipici di un territorio che parla tanto che fa veramente rumore oggi è la giornata ideale c'è vento la sera poi si calma e quindi daremo spazio dopo gli aquiloni alla mongolfiera ma ci sono una serie di attività quindi un evento consigliato ai bambini alla famiglia chiama la natura chiama il green tutto costruito sull'agenda 2030 portando degli aquiloni diversi dal solito da quelli che noi immaginiamo aquiloni grandi anche 60 metri un altro bel progetto ovvero il MAP Festival un progetto dell'orchestra della Magna Grecia promosso dal comune di Taranto e dall'Arcidiocesi racconti memorie di vita commenti sarcastici è un modo disincantato di guardare il mondo Alessandro Baricco uno degli scrittori italiani più amati anche al di fuori dei confini nazionali è stato uno dei protagonisti del MAP Festival a Taranto organizzato dall'orchestra della Magna Grecia la rassegna di musica architettura e parallelismi vede come direttrice artistica Gloria Campaner la moglie di Baricco assieme al maestro Piero Romano un'occasione in più per battute e momenti allegri in un dialogo sapientemente orchestrato dalla giornalista Oscar Ierussi da sempre amico dello scrittore Baricco ha spaziato nell'album dei suoi ricordi raccontando gli esordi la genesi dei suoi libri il rapporto con la scrittura e con gli altri soffermandosi inoltre sul suo approccio con la musica protagonista del MAP e i suoi inizi da critico musicale io amo immensamente la musica ma non ho talento nella riproduzione della musica proprio non ho nessun talento ecco e quindi ho trasferito l'intera mia passione in una cosa in cui avevo molto talento per cui ho messo la musica sia in quello che scrivevo ho messo nella mia vita professionale adesso la cosa che sono finito a fare il critico musicale è un po' casuale a fine serata dopo un breve dialogo con il sindaco Rinaldo Melucci il momento dei firmacoppie con fan elettori torniamo a parlare di elezioni europee abbiamo visto prima il dato italiano abbiamo visto il dato relativo alla circoscrizione del Meridione del Sud Italia concentriamoci ora sulla Puglia su quello che è stato il risultato nella regione lo facciamo partendo da una base ovvero nuovo quotidiano di Puglia la Puglia controcorrente PD primo partito col 34% risultato straordinario il segretario Dem De Santis riusciremo a eleggere due euro parlamentari ma è successo prima seguono Fratelli d'Italia col 26.52% Movimento 5 Stelle con il 15% e Forza Italia al 7.64% Sisto e Dattis moderazione carta vincente eredità di Silvio Berlusconi se su base nazionale Fratelli d'Italia si conferma primo partito in Puglia quando l'orologio segna quasi l'una ed è stato scrutinato il 29% delle schede e il PD ad agguantare il 33.13% dei voti all'europeo staccando Fratelli d'Italia al 26% di quasi 7 punti percentuali la notte servirà a consolidare o smentire questo risultato ecco andiamolo a vedere ora cosa è accaduto durante la notte e vedere se questo risultato è stato poi confermato questi sono i risultati per le elezioni europee che riguardano la sola regione Puglia dove il Partito Democratico effettivamente si conferma primo partito in regione con il 33.57% seguito da Fratelli d'Italia con il 26.95% questi sono i risultati lo ripetiamo che riguardano la sola regione Puglia andiamo a vedere da un punto di vista delle preferenze come è andata in Puglia perché chiaramente il primo dei più suffragato per quanto riguarda il Partito Democratico ma probabilmente lo sarà a livello generale poi vedremo la lista di Fratelli d'Italia è Antonio De Caro che in Puglia ha raccolto siamo davvero in dirittura d'arrivo mancano davvero pochissime sezioni mancano pochissime schede parliamo di 347.606 voti un distacco davvero importante di circa 260.000 voti dalla seconda degli eletti a questo punto Lucia annunziata 69.603 preferenze questo è il risultato del Partito Democratico in Puglia Partito Democratico che è fermo al momento al 33.57% mancano solo due sezioni in Puglia quindi il risultato è praticamente definitivo vediamo Fratelli d'Italia dove Giorgia Meloni lo dicevamo prima la più suffragata sicuramente della lista di Fratelli d'Italia ma che non riesce ad avvicinarsi ai numeri di Antonio De Caro in Puglia Giorgia Meloni ha raccolto 194.402 preferenze seguita da Francesco Ventola con 56.901 preferenze andiamo a vedere il Movimento 5 Stelle come è andato in Puglia il Movimento 5 Stelle qui in Puglia Mario Furore il più suffragato per i pentastellati con 25.640 preferenze seguito a distanza comunque piuttosto minima nell'ordine di qualche migliaio di voti da Pasquale Tridico e da Valentina Palmisano con 21.241 preferenze questo è il risultato lo ripetiamo in Puglia chiaramente poi per capire chi sarà eletto o meno bisognerà vedere il risultato sull'intera circoscrizione del Sud Italia vediamo come è andata in forza Italia che in Puglia ha raggiunto il 7.79% ecco anche qui Antonio Tagliani primo con 32.545 preferenze non è andata certo male Laura De Mola seconda in Puglia lo ripetiamo con 18.986 preferenze andiamo a vedere la Lega Salvini che vedete in Puglia ha raggiunto il 6.19% che è un risultato assolutamente lusinghiero per la Lega considerando insomma le forze in campo e qui a differenza di quello che abbiamo visto nella circoscrizione meridionale la situazione dei candidati e delle preferenze singole è ben diversa torniamo su Eligendo guardate questo particolare il primo il più suffragato in Puglia per quanto riguarda la Lega è il leccese Roberto Marti che ha raccolto 30.613 preferenze seguito da Roberto Vannacci con 20.993 preferenze e ancora dopo Aldo Patriciello con 9.553 praticamente una classifica ribaltata o comunque mescolata rispetto a quello che abbiamo visto come risultato per l'intera circoscrizione sud dove Roberto Vannacci è abbondantemente primo seguito poi da Patriciello con Marti solo Marti che ha portato a casa nella sola regione Puglia lo ribadiamo 30.613 preferenze un ottimo risultato che però probabilmente non basterà per raggiungere il Parlamento per raggiungere Bruxelles questa è la situazione in Puglia lo abbiamo visto siamo riusciti a darvi in tempo reale i risultati veri i risultati che si sono registrati in Italia in Puglia ma idealmente per l'appunto nella circoscrizione meridionale che era quella poi che ci interessava noi ora ci dobbiamo fermare qualche istante restate con noi perché ora ci sono le notizie sportive poi rientriamo ancora quando probabilmente avremo un quadro assolutamente delineato per quanto riguarda le elezioni europee a tra poco a tra poco a tra poco a tra poco Grazie.